Buongiorno, sono Teresa Maria Caputo del TGLT4 Globe Flash News. Passiamo ora alle notizie. Cavallino Treporti, il 30 aprile e il 1 maggio, la 52esima festa Dea Sparesea. La prologo di Cavallino Treporti, in collaborazione con il Comune, sta ultimando gli ultimi preparativi per la 52esima edizione della festa Dea Sparesea, la tradizionale manifestazione dedicata all'asparago, in dialetto Sparesea, protagonista di molte specialità locali. Martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio, cittadini e ospiti troveranno quel sano divertimento che unisce la cucina del territorio, gli stand, spettacoli, mostre e buona musica in un unico grande evento. A partire dalle ore 18 del 30 aprile, la piazza SM Elisabetta e le vie limitrofe si riempiranno delle luci e dei colori di una mostra a mercato, con più di 40 espositori ed una grossa novità, un grande raduno di auto d'epoca e sportive a cura di Family Engineers. Apertura stand e no gastronomica, con orario continuato fino alle ore 23. Appuntamento con lo Spritz Corner, musica e DJ set, per poi proseguire dalle 21 con la musica dei Los Masadores. Testi ironici, talvolta dimensionali, giochi di parole, sarcasmo e pungente, ironia su vizi e virtù della loro terra. Il Veneto è una lettura leggera, ma con superficiale di molte tematiche sociali e culturali. Mercoledì la storica piazza sarà animata già dal mattino dagli assigni di prodotti tipici e dalle associazioni locali, oltre agli appuntamenti all'insegna dello sporto. In mattinata la sparenesia RAN, iscrizioni dalle ore 9 e al pomeriggio la cuccagna e le regate. Alle ore 10 si aprirà la festa con il saluto delle autorità e l'amministrazione comunale, con la mostra XIX collettiva di pittura e scultura, curata dall'Associazione Espressioni Artistiche delle Litorale, presso il Centro Culturale Pascoli e, alle ore 10 e 30, la partenza della sparenesia RAN, la manifestazione podistica non complessiva di 5-12 km, promossa in collaborazione litorale RANNER. Nell'arco della giornata anteprima italiana dello spettacolo, itinerante Alice nel Palese delle Meraviglie, nel quale un gruppo di artisti con meravigliosi costumi e coinvolgenti musiche si esibiranno in una performance itinerante di animazione e interazione con il pubblico. Alle ore 12 apertura stand enogastronomico, con orario continuato alle ore 23, dalle 15 i giochi di una volta con 40 postazioni e animazione per bambini, alle ore 16 zampe in festa, rassegna canina, con sfilata a cura dell'Associazione Peluches, e alle 17 grande assalto al palo della cuccagna, a cura dell'Associazione Sportiva, gli Acrobati della Cuccagna, riconosciuta dal CONI. Dopo la loro esibizione, gli Acrobati saranno pronti a sfidare le squadre che vorranno iscriversi alla gara per arrivare in cima al palo sporco di grasso e assicurarsi il premio. A chiudere la festa, martedì 1 maggio, alle ore 21, saranno i Rodigini, l'orchestra che intratterrà il pubblico con la sua esibizione, uno spettacolo decisamente alternativo che ripercorre i più grandi successi musicali degli ultimi 40 anni e musica da ballo. Concludendo questo TG, io vi saluto a voi telespettatori e vi aspetto alle prossime notizie.